salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft della posizione trappine cosa facciamo oggi andiamo un pochino avanti con la creazione dell'applite bene andiamo a fare il pezzo che ci mancava che l'elementerfest termina ma cosa sarà mai questo elementerfest termina adesso facciamolo e poi vi spiego allora questo l'avevo fatto per i colori che ho finito con la quest quella task che vi avevo detto che avrei fatto così almeno siamo tutti a posto opla facciamo così che era questa ed è finita adesso mancheranno solo queste che con calma facciamo anche quelle non vi volete preoccupare questo ci ho pensato ripensate ho guardato mi sono informato effettivamente ci sarebbe qualcosina da fare che potrebbe essere anche quasi carino quindi questo preset che abbiamo già fatto cioè la quest che abbiamo già fatta proverò a trovare un metodo carino per riuscire a spiegarvelo bene e riuscire a fare una stanza dedicata in modo che potessi fare una cosa particolare o che poi ne vado a spiegare perché mi devo formare adeguatamente in modo da fare una spiegazione che sia comprensibile agli esseri umani perché io spiego da cani quindi insomma è difficile per me trovare modo quindi piano piano troverò mi preoccupate e così farò vedere consapevolmente di fare speriamo di riuscirci a farlo in modo normalo quindi per adesso è in stand by comunque la roba c'è messa da parte non vi preoccupate quindi andiamo avanti e questo lo farò perché lo scuseva interessante è un altro macchinario grosso ma dopo vedremo doveva fare l'applied che devo fare tante cose effettivamente però ci vuole tempo e pazienza cosa manca da fare e manca col pezzettino che adesso dopo faremo anche questo che dice qualcosa muove gli item e muove item e li manda nella network li manda fuori la network praticamente è un me export bus e questo è un import bus praticamente questo vuol dire che export io ho messo una vita a capire cioè è facile però evidentemente per me no vuol dire che questo esporta ma inteso come qual è il fulcro l'oggetto il soggetto del discorso qual è il contesto lui dice esporta ma da dove che non si capisce io pensavo esportarsi in generale io lo metto esporta no questo esporta dal sistema a qualcosa parla parla sempre il sottinteso è sempre il sistema e questo è importa nel sistema quindi se io volessi importare nella cassa qualcosa con questo non lo potrei fare perché lui non me lo importa nettamente nel sistema dovevi fare se volessi importare nella cassa qualcosa dovevi usare l'esport magari è semplice per gli altri ma per me è stato un problema capirlo vabbè ve l'ho spiegato nel caso qualcuno dovessi incontrare le stesse difficoltà e siamo a posto ok andiamo pure a fare il resto perché dobbiamo fare anche questo che è molto 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 importante però prima facciamo questo come si fa questo non è una minima idea quindi ci guardiamo allora vediamo cosa ci manica ci manca un interface ma come si fa l'interface si fa facile perché abbiamo tutto a parte il ferro che abbiamo qua e il vetro che abbiamo là capito tutto no insomma è parlato italiano il vetro che mi fermi diciamo non riesco più a parlare che abbiamo qua questa la mettiamo da parte dopo gli dico dove perché mi servirà e che questa mi servirà però calma una cosa alla volta dobbiamo fare questo che mi serve il engineering processor quindi andiamo a mettere via un attimo le due cose che non ci interessano e prendiamo l'engineering processor che è effettivamente l'unico che ci mancava ok quindi andiamo a fare un po questa cosa per l'interface e ci mancherà ovviamente l'ho anche detto che servivano i vetri ma insomma ci vuole tanta pazienza però adesso queste qua le mettiamo qua e dopo le metterò in un loco suo adibito adesso adesso prendiamo il vetro che possiamo prendere anche questo visto che ne ho fatto tanto e vai tai vai tai non so cosa vuol dire però vuol dire qualcosa ok andiamo pure a vedere se si può usare scusate ho sbagliato crafting come al solito sono distratto esatto in realtà me ne servono diverse di queste ma tante e non bastano lo stesso perché tu fa così poco perché io non sa contare ecco perché porca vacca ecco qua ecco qua ecco qua ci vuol pazienza ecco o 32 sono 5 4 9 9 ma perché conto che io non sono capace scusate io non so facciamo così ma facciamo così mi piace più 13 ok a posto adesso abbiamo fatto questo che cos'è questo coso è un interface interface che serve fare varie cose di cui uno è un setup particolare che servirà poi per fare l'auto crafting ma questo lo spieghiamo in un altro episodio più che altro a noi adesso ci serve per far questo per far questo che ci serve qua e quindi andiamo a mettere o le fasi le fasade perché le prese perché io ho finito di fare il mio setupino qua che sta lavorando però non l'ho coperto è l'ora di coprire un pochino sto casino che ho fatto come mio solito e quindi adesso è coperto ovviamente io non so contare e manca della roba vabbè è sempre così con me non ci facciamo niente vabbè comunque avete capito dopo lo chiederò bene almeno così è calma qui cosa ho fatto l'ho fermata cioè non è che l'ho fermata ho tolto l'immaginario time block perché basta insomma ne abbiamo tanti continuerà a fare adesso sono io che ho l'abilità quindi è veloce però da lontano vedete è molto più lento però non vi dovete preoccupare di roba ne abbiamo tanta e basta dai insomma quanto dobbiamo fare e quindi va bene così ho tolto un po' di minima di lag ce ne erano cominciate a esserci un po' perché c'è tanta roba in movimento e quindi togliendo quello abbiamo guadagnato 5 fps vabbè comunque sia sto coso che cazzo è sto coso se non vi spiego cos'è sarà mai insomma sì eccolo qua che brutto adesso vi spiego come metterlo a posto sto coso questo coso è una cosa che a me non serve un cazzo perché io ho sbagliato perfetto se non faccio un fail a video non siamo contenti sono sempre sotto il coglionito allora applied era l'alto che purtroppo ci ha somigliero tanto io ho fatto addio con l'enderman e ho fatto la mia bella cacata non è mentre fast terminal ma era questo no il patente è quello che avevano già fatto era questo no neanche scusate adesso non lo trovo perché sono ricogliolito e tutti lo sanno eppure era questo e non è il patente termine allora era questo però manca l'autocrafting quindi scusate è quello che non mi trovavo quindi questo servirà vi spiego poi comunque è complementare a questo ce ne servono tutti e tre perché uno serve per fare le patte per l'autocrafting e l'altro serve per gestire l'autocrafting ok e questo invece servirà per fare la richiesta dell'autocrafting ok tutto chiaro adesso cosa devo far vedere devo farvi vedere come si fanno le fasade eh per ora tu me le hai disabitate tutte allora ah ok perché lo spazio mi dava le solite cose e siamo a posto quindi adesso io vedrei le cose che mi servono in più vabbè non è un problema questo stavo cercando le fasade non le trovo scusate me le ha tolte mi ha lasciato solo queste va bene il principio è lo stesso voglio giusto vedere esatto me le ha disabilitate non so perché però comunque sono queste ce ne sono tante lui le ha disabilitate però inoltre funzionano lo stesso e adesso vediamo come si fanno come si fanno le fasade quindi si chiamano fasade ok si fanno con gli anchor eccoli qua come si fanno questi si fanno con questi adesso andiamo a fare tutto quanto così lo vado a coprire vi piacerà molto di più almeno così spero però adesso andiamo avanti se non capiamo niente cosa ci serve dunque questo l'abbiamo fatta ci serve questo perché questo è una cosa autonoma che serve per avere il magazzino almeno controllare cosa abbiamo messo dentro delle celle che le celle ci serviranno poi per poter fare il magazzino giganto però a volte succede purtroppo non c'è un ordine prestabilito ne butta così a caso la versione che è adesso attualmente installata non è modificata però diciamo quella basica basilare di questa versione di questa versione sì perché era 1.12 mi sembra 22 non mi ricordo comunque sia non è molto va un po' a cazzo insomma però con questo qui noi possiamo vedere cosa abbiamo direttamente le celle mette le nuove in ordine e dopo lui andrà a metterle negli occhi insomma tanto per dire comunque non si è capito molto perché devo farlo per spiegarlo quindi vediamo come si fa allora cosa manca? manca questo questo come si fa? con l'ME terminal io ho un altro vetro di quello non col cazzo mi ha risposto allora facciamo mettiamo un minimo di storage se no non ce la faccio ME driver ok questo qua è lo storage allora possiamo già farlo le faccio due ok perché se no non riesco a trovarmi per spiegare meglio perché se no io vado come vado di solito non spiego bene quindi lo mettiamo a scomparsa sto pensando scusate perché voglio farlo bene però evidentemente non è così allora facciamo in modo che ci guardi to guardami perfetto adesso mi serve il buco qua dopo vi spiego perché adesso una cosa la voglio gettono ecco qua adesso vi spiego cosa voglio fare allora metti qua ok questo dopo lo sposto e adesso noi in teoria abbiamo la possibilità di avere un magazzino cosa ci serve per fare il magazzino? ci serve un'e capo storage allora i capo storage sono delle cellule di magazziniamento che potranno ottenere un massimo di 64 slot mi sembra storage vediamo un po' m storage fluid storage m storage component sto pensando perché ecco un km devo fare se no lui mi fa anche i fluidi e mi sbaglio e siamo a posto m storage a un k e continuo a darmi fluid non so perché vabbè comunque si è questo mettiamolo qua prima che mi sbagli lo facciamo subito è facile da fare non c'è nessun problema e così vi spiego subito immediatamente cosa voglio fare allora cerco di renderlo facile perché stavo partendo col presupposto che voi conosciate già la mod ma evidentemente non è così perché mi sono confuso quindi insomma colpa mia allora vediamo facciamo questo che si fa facile con la redstone redstone che abbiamo qua adesso colleghiamo tutto vi faccio vedere come fare una cosa alla volta così non dobbiamo più andare avanti e dietro posso farlo anche da qua in fondo è una crafting insomma nel senso ecco qua perfetto adesso ci serve qualcosa che immagazzini questo una appunto cella la cella si fa così col fuso quartz mi vado a prendere un attimo il fuso quartz che abbiamo messo qua eccoci qua c'è mai succhiata è ormai andata insomma che ci volete fare sono fatto così porca vacca vabbè faccio un fail a video allora mettiamo via un po' di roba vedete sicuramente qualcosa che io non vedo ma intanto è sempre così non importa va bene andiamo cia boia la resta non ce l'avevo il pose il pose il quartz fu nel quartz voleva quello vediamo non me la ricordo più dovrebbe essere questa quartz glass ecco questo vuole il quartz glass ok che era quell'altro che avevo fatto ok quindi non ho fatto una stronzata nello scorso episodio ho fatto solo una cosa diciamo tutto calcolato stavate attenti nel senso vabbè andiamo a fare il mestolo di cell questa ecco adesso ci siamo scusate la mettiamo dentro se lo trovo c'è la c'è la c'è la c'è la dove è la cella ma dove cazzo l'ha messo il mio make up a storage l'ho buttato via ma perché sono sempre così ricoglionito e porca vacca e vabbè io l'avevo fatto e probabilmente l'ho buttato chissà che cazzo ho fatto comunque questa qui me l'ha messa qua non lo so da qualche parte c'era pure l'ho messa qua scusate sì sono sempre il solito ricoglionito ecco qua a posto dopo ne faccio un'altra e siamo tutti a posto a cavallo tanto me ne servivano due nel senso insomma no questa è quella piena dove cazzo l'ho messa qua ah così scusate facciamo la pazienza ok e me l'ha già messa va bene ok io ho fatto i tre me ne servono i cinque però tanto io non so contare quindi siamo sempre a posto allora come vedete qui c'è 0 di 100 di 1000 byte di un massimo di 63 item diversi quindi cosa vuol dire questa cosa strusa che se io andassi a mettere alcune cose qua dentro lui mi conterebbe un magazzino unico con due slot andiamo a vedere due di 63 ok quindi vuol dire che ne ha contati due però con byte allora questo un k cosa vuol dire che può contenere un massimo di 1000 byte o di 63 tipologie diverse di item singolari che poi possono staccare quello non è un problema ogni stack dipende dall'item va su di byte quindi vuol dire che noi o riempiamo tutti i byte e possiamo mettere anche solo un item e si riempirà o mettiamo 63 tipi diversi con un byte l'uno quindi anche se abbiamo molti byte disponibili lui si riempirà perché il 64esimo non può metterlo perché il massimo ne mette 63 oppure tutti e due è difficile riempire il 63 e 1024 però è possibile quindi noi abbiamo queste tre possibilità da fare con un 1k poi dopo gli altri k ci va molta più roba ma gli item staccabili cioè gli mettibili tipologie diverse che si può mettere sono sempre 63 a meno che non hanno modificato la moda quindi così facendo c'è poco adesso che si mettesse le altre lui andrebbe un po' a cazzo a meno che non hanno modificato io parto sempre con il presupporto che sia la versione basica che non è modificata poi non so se qui l'ha modificata comunque andrebbe a metterli a caso o sempre nella prima che c'è a essa connessa e poi riempita i 63 o i 1024 passa quello dopo però dopo sarebbe un casino mettiamo noi che il caso che io mettessi del gold dei lingati di gold che vanno a un tape solo ma a 1025 byte lui andrebbe a freni direttamente nella prossima quindi non avrei controllo di sapere quando questa cella effettivamente si riempie e cosa effettivamente c'è per questo andiamo a fare questo che questo qui è un modo esterno all'applied per verificare cosa c'è dentro una cella e poter mettere noi ordine con calma una volta fatto questo lui dopo si sistemerà a sua volta quindi adesso noi abbiamo un magazzino io in questa cella volevo metterci tutta la roba dell'applied che sono sicuro che mi servirà quindi questo 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 adesso ne prendo un altro po' di roba così almeno io so che in questa cella ci va tutta la roba dell'applied quindi andiamo a prendere questo andiamo a prendere questo andiamo a prendere questo qui c'è tutta la roba dell'applied e sono tranquillo e sereno perché so che qui c'è questa roba qui tac 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 perfetto abbiamo tre topologie ovviamente si può mettere in fila e siamo posti così abbiamo un magazzino e possiamo accendere la ghiglia senza problemi ok questa è una cosa spiegata questa è la base che dopo vi vado a spiegare più profondamente cosa ho intenzione di fare è benissimo dopo possiamo fare anche una ricerca direttamente vedete tac e lui andrà a fare adesso ovviamente non c'è la roba però se io volessi fare una roba così vedete lui me la prende e siamo tutti felici e contenti ok mettendolo così lui li mette dentro ovviamente perché me l'ha andato a prendere da qua però a meno abbiamo capito la base qual è adesso cosa facciamo andiamo avanti perché indietro si può dare però intanto volevo fare con voi questo qui allora questo lo possiamo togliere e possiamo fare questo per fare questo dobbiamo fare il 16k che è già un pochino più complesso però non difficile non impossibile il 16k è l'evoluzione dell'1k che è con il 4k trasformato quindi dobbiamo fare 4 da 1k adesso dobbiamo andare a prendere il fuse course dobbiamo andare a fare un po' comunque nel caso volete sapere come si fa il fuse course molto semplicemente si clicca sopra lui lo farà vedere con il certus course e il vino ho detto vino forse volevo dire qualcos'altro vabbè comunque sia incominciamo a prendere la roba che ci serve ok questa ci servirà perché comunque è dell'applied della quadradition che usa l'applied componente basico esatto usato nell'applied per fare i cavi esatto questo questo è anche la lunga diverse cose vabbè l'importante è che comunque serva e io lo prendo poi serve il vetro che di vetro ne ho tanto e quindi lo prendiamo qua vedete mi sto preparando che cazzo è successo madonna ma ciuccia come un ciucione sto coso sono sempre detto a fare il secchi di lava e porca vacca scusate mi ero messo a posto ma a quanto pare sto coso ciuccia ciuccia ma ciuccia tanto ok perfetto scusate piccola divagazione e siamo a posto stavo dicendo prendiamo un po' di vetri prendiamo 4 staff non so contare non so pronuncio tutti siamo a posto andiamo pure adesso lo andiamo a mangiare aspettate vediamo che non correvo che cosa succede ok e siamo a posto quindi facciamo il solito discorso ci mettiamo la roba che io so è servire in questa cella apposta adesso ne abbiamo una non abbiamo problemi ok adesso cosa facciamo ma facciamo i k ma si facciamo i k e i k normali mi raccomando non i fluidi se no facciamo una merdata siamo tutti a posto allora abbiamo 124 abbiamo questi allora lui allora se clicchiamo shift e il click farà lo stack in automatico e ce lo depositerà nel nostro inventario se invece ne vogliamo prendere uno alla volta clicchiamo sopra però ovviamente no perché manca qualcosa che mi manca qualcosa che io non ho la redstone che non avevo messo nel sistema ovviamente ci vuole pazienza con me ce ne vuole tanta tanta ok me l'hai data grazie molto gentile ok andiamo a mettere il sistema scusate ok ok quindi se noi adesso andiamo a vedere noi dobbiamo contare sono 2 4 6 8 9 17 più o meno sono le cose associate se noi ci mettiamo quello che non so se osserva però se noi andiamo a vedere dovrebbe essere esatto vedete 17 di 63 con un byte usato a 419 ok perfetto allora adesso noi dobbiamo fare il k noi facciamo così e ne facciamo un bel po' vedete senza problemi lui andrà a succhiare quello che serve perfetto mi sto pensando ma penso possa bastare quindi passiamo allo step successivo lo step successivo è il 4k il 4k come si farà mai con il quarto glass è il corcolo del processo che abbiamo già messo nel sistema siamo a posto quindi andiamo a mettere nel sistema questi così lui potrà prendere in automatico quelli che servono esatto le ha finiti non ce ne sono più vedete e me li ha usati 4x4 fa 16 oggi ci abbiamo adesso contare noi dobbiamo fare il 16 ne vorrà 3 stranamente ne vorrà 3 per far così ah la Grosso non serve vedete io mi ricordavo qualcosa del genere però insomma nel senso ecco qua andiamo a fare questa qua qui è il 16k riguardiamoci perché non si sa mai esatto il 16k oddio scusate ecco ho cercato di spiegarlo più semplicemente possibile eccolo qua 16k fatto quindi facciamo così ok quindi adesso ci abbiamo 19 9,18,19 vediamo se è vero 19 perfetto funziona benissimo qua il 4k questo è già fatto e mi dà anche il 16 che io ho fatto anche il 16 ah scusate ovviamente ecco 16k fatto ok adesso cosa facciamo facciamo finalmente questo coso qua questo coso qua si fa con questo che io mi sono un attimo scordato di fare perché sono in solito pirla e tutti lo sanno il 4k che io posso fare e lo facciamo subito ok andiamo a fare perché sennò sono sempre sbadato e ci vuole tanta pazienza eccoci qua e questo lo facciamo poi scusate non ci vuole un po' di pazienza ecco beh vai possiamo farlo perfettico andiamo e dovrebbe esserci tutto perfetto e questo LME chest che è molto molto interessante mi serve anche questa effettivamente porca vacca allora cos'è questa questa è la chest famosa che vi dicevo prima allora se io adesso l'ho connetto all'applied non serve un cazzo perché vi dice che deve funzionare separatamente quindi per il momento per spiegarvi la metterò in un modo brutto ma tanto brutto no non ce la faccio più forti la devo mettere bene dai dove cazzo la metto signore certo devo mettere un attimo non si offenda la metto un attimo qua eccoci qua prendiamo la nostra che la nostra bug e prendiamo vabbè l'energia qui 9000 siamo un po' eccessivo prendiamo quello basico eccolo qua beh che abbiamo l'energia lì insomma di mazinga però insomma nel senso attacchiamo mettiamo una cella ok e noi possiamo vedere cosa c'è essa connessa guardate adesso se io andassi a prendere qua e gli prendessi questa lui non aveva più magazzino ovviamente però la vado a mettere qua e scusate qua ok e io posso vedere cosa c'è e togliere e mettere senza problemi perché io quando avrò molte celle qui dentro io non riuscirò a capire perché non mi fa vedere in quale cella c'è qualcosa perché magari la resta io ne ho un po' qua un po' qua un po' qua e quindi non è ottimizzato lo spazio mi va a prendere uno spazio e cella che io posso unificare in uno solo e quindi cosa facciamo quando abbiamo roba di poco di poca quantità che sappiamo che ce ne servirà in poca quantità io consiglio di mettere una cella di vita a posta quindi si la mette a posto in ordine con questo macchinario qua una volta presa una volta messa in ordine si prende e si va a mettere là per avere più ordine capito e ottimizzare più gli spazi ovviamente di questi driver possiamo fare tanti però un po' d'ordine non fa mai malo insomma capite ecco qua a posto spiegato adesso dobbiamo fare questo quindi mi serve adesso quello la lasso lì dai che ci serve facciamo qua mette pazienza adesso tanto abbiamo tutto vai e facciamo questa perfetto che cos'è questo ma adesso più in punto lo andiamo a leggere dice setup ME network solo con card amiche e i tuoi amici può essere usato anche come requisito per il wifi terminal ecco quello che a noi ci servirà esattamente è questo per il crafting terminal allora lo mettiamo qua ok questo non è finito ovviamente ci mancano delle cose ma questo lo faremo in un secondo momento poi almeno sto facendo le basi che poi vi spiegherò vi farò vedere poi finalmente ci ha sbloccato la via al wifi e dopo lo faremo però quello che non c'è ancora sbloccato ah questo qui devo fare scusate mi sono dimenticato così ve lo spiego nel prossimo episodio con calma ve l'ho già detto anticipato però non ve l'ho fatto vedere questo ci servirà finalmente anche le mesture ci servono aspetta ME un'altra cosa molto 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 importante ma io mi sembra che avessi messo qua no fatemi vedere eccola qua l'ME storage bus questo ci serve per far sì che tutto quello che noi ci connettiamo lo veda senza usare l'ME driver cioè io se adesso vado a collegare questo pezzo qua lui me lo vedrà come magazzino ma lui accederà in automatico a questo setup quindi andrà a prendere e a togliere direttamente da qui quindi se non avessimo l'ME driver potremmo lo stesso lavorare facendo questa operazione facile attaccandoci appunto a un SHIV adesso vi faccio vedere adesso lo chiudiamo se no faccio dopo lungo il video possiamo attaccare questo ME dove l'ho messo che era qui insomma quello lì che appena ho detto ecco qui l'ME storage bus ha una cosa adibita appunto al nostro storage driver cioè o il driver controller o il controller slave hanno la stessa funzione in questo caso quindi io potrei potrei fare qual è più facile da fare beh sono tutti due uguali più o meno cambia solo il materiale qua metto quello là magari non lo so in un posto metto qua metto qua e a parte che ce l'ho già e l'avevo fatto però non importa lo metto qua e dopo ci vado a connettere il cavo che mi va direttamente sotto terra perché così almeno non rompo le palle all'applied così io quando andrò qua io qua vedrò anche tutto il magazzino lì e potrò accedere da qui in questo caso non abbiamo wifi senza andare a deficitare questo spazio che noi abbiamo adibito ad altre cose è una cosa molto carina anche perché così possiamo andare avanti dietro ogni volta quindi tutta la roba la connetterò tutta qui e la potrò avere tutta qua a poter fare quel cazzo che voglio molto interessante e questa è la base ma poi avrò in mente tante cose che vi spiegherò quindi spero di essere stato utile come al solito vi invito lasciate un commento se vi piace la serie fa pensare delle cose ne pensate per la suite un saluto la cima ciao 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 ciao